Yoko Yamada, un grande applauso! Grazie, grazie mille dell'invito, buonasera a tutte e tutti, io sono Yoko Yamada, sono molto molto contenta, molto emozionata di essere qui, è sempre un piacere per me tornare a Sayano, nello specifico nel posto dove da piccola mi esibivo nei saggi di pianoforte, questo non è per niente un trauma. Allora sono Yoko Yamada, abito a Venezia da 10 anni, io sono del 93, siamo nel 23 per cui quanti anni compio quest'anno? 23, esatto, 23 anni, no scherzo, a luglio ne faccio 30 ma non è assolutamente un problema, cioè io sono una di quelle persone che dice l'età sono soltanto dei numeri, nello specifico io posso dire che posso dire di essere un under 30 ancora per 131 giorni, 19 weekend, 16 ore, 21 minuti, ma ripeto non è una cosa a cui do molto peso, non è assolutamente un problema, un ragazzo dello staff prima mi ha detto, tu forse non ti ricordi però io abitavo nella tua stessa via, dove è quello, la casa all'angolo, ah quando eri, quando eri, ah bello, quindi figo sei cresciuto anche tu, perfetto. Allora io mi sono cresciuta appunto a Sayano, come avete sentito mio padre è giapponese, mia madre è italiana, forse in realtà mi conoscete già tutti, mi sono diplomata al liceo Leonardo in diritto scientifico linguistico e la mia prima crisi esistenziale è stata proprio lì quando ho dovuto poi scegliere che percorso fare all'università, per me era assurdo a 18 anni scegliere una cosa così grossa, così importante e alla fine ho detto beh dai mi piacciono le lingue, vado a studiare il giapponese perché io lo dico sempre, sono mezzo sangue ma non sono bilingue, in casa non si parla il giapponese e avevo davanti due scelte, lingua giapponese, Venezia o Bergamo, ho detto Bergamo troppo vicina appunto a Venezia e quindi mi sono trasferita a Venezia appunto per studiare il giapponese e per confondere le lettrici del dipartimento. Il primo giorno in classe hanno fatto l'appello, Yamada Yoko, presente, Yamada tu sai parlare giapponese? No, no prof, sai scrivere giapponese? No, sai leggere giapponese? No prof, veramente sono qui per impararlo come tutti gli altri. Dico sempre questa cosa che i giapponesi per me sembrano strani perché sembrano sempre sorpresi. Un'altra crisi che ho avuto con la vita è stata proprio quando mi sono, dopo la laurea triennale, vado da mio padre e gli faccio vai non so cosa fare dalla mia vita perché da un lato vorrei rimanere qui a Venezia, vado avanti a studiare la magistrale, la mia comfort zone, dall'altro invece vorrei uscire, magari vado a fare un'esperienza di volontariato, vado a fare un viaggio, le principali capitali europee, vado a fare il giro del monte, vado a fare l'attrice ad Hollywood. Mio padre mi guarda e mi dice, Yoko-chan, piccola Yoko. In Giappone abbiamo un detto che dice, inonaka no kawazu, taika yoshirazu, che significa, il rano occhio nello stagno non conosce l'oceano. Bellissimo. Io mi ricordo e gli ho detto, ma certo, tu mi stai dicendo che il ranocchio sono io, lo stagno è Venezia e io devo uscire e scoprire il mondo, giusto? No, significa che devi trovare lavoro. E niente, quindi adesso faccio la commessa, faccio la commessa in questa boutique di lusso, che in realtà non c'entra nulla con me. E ci tengo a precisarlo, in realtà questo di commessa non è stato il mio primo lavoro, ho fatto anche la cameriera, ho fatto la cameriera e l'animatrice per i bambini e chi dice che è un lavoro facile perché non l'ha mai fatto, ok? Perché tu devi avere sempre mille occhi ovunque, la responsabilità, se succede qualcosa la responsabilità è tua. Per esempio mi ricordo una volta che c'erano due che stavano bisticciando, ho detto, madonna ora si picchiano, devi intervenire, corro lì e faccio, brutto, non si fa così, no, adesso vi prendete per mano e fate pace, dai. E poi arriva la mia collega che mi fa, Yoko tu devi limitarti a prendere gli ordini e servire i tavoli. E io ho visto una situazione di crisi e sono intervenuta, signora non è che sono stata a pensare. Comunque, madonna che ansia il timer. Mi sono scritta gli appunti dietro il foglio guest, sì mi sono scritta gli appunti dietro il foglio guest. Certo, dunque, questo lavoro di commessa è un part time per cui mi ha dato tempo negli anni di in realtà dedicarmi anche a quelle che sono le mie passioni, i miei hobby, che ho scoperto ancora durante il liceo, ovvero la passione per il teatro, per la recitazione. C'è stato un momento, qualche anno fa, in cui ho detto, boh, vado a fare le robe serie, vado a Milano, ho scelto tre principali scuole di teatro, filodrammatici, piccolo, Paolo Grassi, ho fatto i provini e non mi hanno preso. Proprio grazie, arrivederci. Col senno di poi, io in realtà dico, è stato meglio così perché poi ho scoperto la stand-up comedy e la stand-up comedy è questa arte, è un tipo di comicità, tipo il cabaret, però si va in scena senza buffe, parrucche o con tormentoni tipo chi è? Tatiana? Ma semplicemente, anche se devo dire il mio ciotto può sembrare un po' un tormentone, ma comunque, ho scoperto appunto la stand-up comedy e è stato, sto pensando che quando mi hanno chiesto per la presentazione, vuoi che proiettiamo qualcosa? Ho detto, no, no, non ho nulla da, e oggi in treno ho detto, ma certo devo parlare del Likigai, regia mi mandi il Likigai, senza sapere che poi il mio amico di vecchia data, Ludovico Valsecchi, parlava anche lui nel suo intervento, ma in realtà è meglio così, sono super contenta perché avete più o meno già capito di cosa si tratta, però voglio dirvelo, lo riuscite tutti a leggere anche là in fondo? Lo vedete? Siete morti, mi sentite là in fondo? Si legge o così così? Sì, sì, ok, perfetto. Non è facile, no? Likigai, cioè trovare quel lavoro, quell'impiego, quella cosa che appunto riesce a toccare tutte e quattro quelle dimensioni, quello che ami fare, ciò che sei bravo a fare, ciò di cui il mondo ha bisogno, ciò per cui tu puoi essere pagato per fare, no? Spesso lasci sempre fuori un cerchio, hai quel lavoro pagato bene, ma che non ti dà soddisfazione personale, o al contrario hai quella forte passione che però non puoi monetizzare, perché poi, diciamocelo, bisogna anche capire come pagare le bollette a fine mese, no? Per cui, ecco, ve la dico come me l'ha detta mio padre tempo fa, mi disse, io ho presa sempre da un'altra crisi, vado da lui, gli faccio papà, non capisco cosa devo fare della mia vita, io forse devo solo semplicemente cambiare lavoro, devo cambiare città, non lo so, devo trasferirmi. Mi guarda e mi dice, Yoko-chan, tu devi trovare tuo ikigai. Ikigai trovi pensando la tua vita come dei cerchi. Allora, primo cerchio è ciò che tu ami fare. Secondo cerchio è ciò che sei brava a fare. Terzo cerchio, ciò di cui il mondo ha bisogno. Infine, ultimo cerchio, ciò per cui tu puoi essere pagata per fare. Ecco, trovare un cerchio molto importante, molto importante trovare il cerchio, però trovare singolarmente non è sufficiente, perché per trovare tuo ikigai tu devi intersecare. Guarda bene, Yoko, questo è tuo ikigai, questa è tua ragione di vita. E quindi niente, mi sono iscritta a Tinder, o meglio Wapa, la chat per ragazze lesbiche. Tra l'altro io all'inizio non volevo neanche iscrivermi, perché dicevo, no, ma non voglio che la mia foto giri per queste app, non voglio, voglio che sia come per gli etero, che succeda così, incontro qualcuno per casa, tipo al bar. Avrei stato dovuto vedere quanto erano contente poi le mie amiche quando finalmente mi sono iscritta, perché loro avevano insistito per anni, quando finalmente mi sono iscritta, uno mi fa, bravissima Yoko, vedrai che adesso cambierà tutto. Un'altra addirittura mi fa, grande Yoko, dai cazzo che adesso scoppi anche tu! E ogni volta rispondevo, calmati mamma. Voglio un attimo dirvi, un momento un attimo, serietà. Ne parlavamo all'inizio, no? Il talento non è laurearsi otto anni prima della media. È una cosa molto complessa. Cioè quello che voglio cercare di dire, la mia vita con la mia situazione personale, io con i miei pregi, i miei difetti, la mia vita è diversa dalla tua che è diversa dalla sua. Cioè ciascuno ha bisogno e diritto del proprio tempo, no? Questo perché spesso si leggono appunto quelle notizie. Io tempo fa leggevo, stavo scrollando le notizie sul cellulare, leggo l'articolo l'articolo. Lorenzo, genio della matematica. A 14 anni si iscrive all'università, ha scoperto il fascino della matematica a otto anni attraverso le equazioni. Io a otto anni scoprivo il registratore di cassa di Barbie. Un affare grosso così, ok? Rosa. Aveva un tasto che se tu lo giravi a destra diceva, benvenuta ecco il registratore di cassa di Barbie. Ora premi un tasto e divertiamoci a fare shopping con Barbie. E se lo giravi a sinistra diceva, ciao. Per cui io, per cui io a otto anni dico, ero lì che, benvenuta ecco il registratore di cassa di ciao, benvenuta ecco il registratore di cassa di ciao, ciao, la cassa registratore di Barbie. Ora pressione una tecla e la mostrata dicono, willkommen, da si sbarbis, auf, 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 ciao, benvenuta, ciao, auf, 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 un giorno ha smesso di funzionare. Che poi in realtà non è che non funzionasse più. Parlava solo il russo. Il che era strano perché la bandierina russa non era presente nel display. Di certo si erano tipo, non lo mio padre è incazzato, mi diceva, Yoko-chan basta, non giocare più con quello, non giocare più con quello, non più, registratore di cassa di Barbie. Quello ormai è diventato registratore di cassa di Satana. E io ero tipo, chi è Satana? Satana è nemico di Gesù. Basta, metti via, nascondi, nascondi sotto l'oretto. Nascondere il registratore di cassa di Satana sotto il letto non è stato un buon consiglio. A volte mi svegliavo la notte sentendo, guardia. Tuttavia, prima che Satana San si impossessasse del mio registratore funzionava da Dio, c'erano queste carte elettroniche che tu passavi e diceva, alimentari, 6 euro e 99 centesimi. Abbigliamento, 12 euro e 99 centesimi. A volte andava in apnea, non so perché. E niente, me l'aveva regalato mia madre, un chiaro tentativo di insegnarmi il capitalismo fin da piccola e poi ho fatto per sei anni la commessa. Coincidenze? Io non credo. Io non credo. La vera domanda che mi faccio è, chi cazzo gliel'ha insegnata l'equazione a Lorenzo quando aveva otto anni? Quindi ecco, tornando un attimo al punto, per me era tutto questo per dire ciascuno ai suoi tempi. Io penso che, cioè è da quando avevo 18 anni che cerco di capire appunto qual è il mio Kigai, cosa fare della mia vita, no? Perché l'unica cosa certa della vita è la morte. Cioè, scusate, non volevo spoiler, però bisogna, cioè, trovare quella cosa che è, perché poi, cioè, provarci almeno. Quindi io è da quando ho 18 anni che dico, chissà qual è l'università giusta, oddio, poi chissà qual è il lavoro che fa meglio per me, oddio, oddio, oddio. Allora, nei 30 anni forse ho trovato quella cosa che, in realtà forse anche un po' per culo, perché io sono partita dalla mia passione, ho capito che mi piaceva far ridere le persone e sono partita da quello, poi, fatalità, ho completato, diciamo, il mio spettacolo da 60-70 minuti col quale appunto sto girando per i teatri e i pub. Non posso dire tutta Italia, perché di solito sotto Roma non scendo mai per un qualche motivo, è un po' difficile organizzare, però, nel senso, 20 secondi. Quindi, il, cosa stavo dicendo? Signora, cosa stavo dicendo? Presso il filo. Il... Licky guy. No, qua ero un po' indietro, però, sì, di base, no, di base bisogna... No, allora, dai, il messaggio serio con cui volevo lasciarvi è appunto che all'arbre dei 30 anni ho un po' capito, no, che poteva essere questa qua di farla comica, la stand-up comedy, la mia vocazione, che è anche professione, passione, missione, perché ne ero appassionata, ho capito che studiando ce la potevo fare, insomma, che potevo essere bravo a farlo. Cosa di cui il mondo ha bisogno? C'è sempre bisogno di ridere, soprattutto poi io l'ho completato questo spettacolo dopo la pandemia, per cui c'era più tanta voglia di riaggregarsi e tornare a fare qualcosa di collettivo. Finalmente poi mancava quell'ultimo cerchio, il tassello della gente che mi pagava per farlo, per cui sono riuscita a unire queste cose, però sono anche consapevole che sia il mio ikigai temporaneo, cioè io so che tra qualche anno, spero il più tardi possibile, però io mi sento già che avrò un'altra crisi in cui dico, no, ma aspetta, forse non voglio più fare questo, voglio, o magari dipenderà anche dal mondo, no, che cambierà e quindi io dovrò adattarmi alle esigenze, per cui questo per dire che, questo per dire cosa? Cosa? Cioè, ecco, grazie, quindi, ecco, se ci sono domande. Sapevo che c'era il momento domande. No? Ok, ci sono, perfetto. Grazie mille Yoko per questo intervento. Io volevo farti una domanda. Sì. La domanda è, considerando che il concetto alla base di questo evento è la rinascita. Che consiglio desideri dare ai giovani perché possano compiere questa rinascita? Anche alla base del concetto che ormai non c'è più, però avevi espresso. Sì. Esatto. Allora, per rispondere a questa domanda, la prendo un po' larga. C'è una voce, una voccina, che secondo me tutti prima o poi nella vita sentiamo, ed è quella voccina che dice, cosa? Cosa è che vorresti fare tu? No, non sei abbastanza bravo. Vuoi fare quello? Guarda quello, è molto più bravo di te a farlo. Guarda quella, è molto più competente. Cosa? Vuoi fare questo? No, lascia stare. Ecco, il mio consiglio è mettete a tacere quella voce, perché quella voce che poi la nostra paura non parla a caso. Cioè, ti faccio un esempio, se tu adesso mi dicessi, Yoko, immaginati di mollare tutto per provare a diventare una cantante. Immaginati di buttarti a capofitto per diventare una cantante. Io ti sorrido, penso a me che canta a squarciagola, stonata, in doccia, e so che quella non è la mia strada, il mio percorso, la mia vocazione. E quindi sorrido, ma io quella voce non la sento neanche perché lo so che non posso diventarlo. Se invece mi dici, caspita, ho visto Michela Girò su Netflix, Edoardo Ferrario, Lundini sulla Rai, come ti senti se potessi anche tu un domani esibirti non davanti a un teatro da 200 persone, ma 2.000, davanti all'Arcimboldi. La sento quella vocina che dice, no vabbè, cioè calma adesso, vediamo, perché è un po' sindrome dell'impostore, no? Il mio suggerimento è mettila a tacere perché tu lo sai. Quando senti quella voce, quella voce è sempre sbagliata e ripeto, non parla a caso. Se ti dicessi, chiudi gli occhi, immaginati sei diventata l'architetto che vorresti, hai aperto, sei diventato leader di un'azienda che vende un concept, un'idea, un oggetto, un qualcosa che è tuo, che ti rappresenta, che è autentico, se tu senti quel, oddio no, non ce la farei, è perché in realtà sai che puoi farlo. Adesso magari non hai tutti gli strumenti per farlo, ti mancano dei tasselli, ti manca lo studio di un qualcosa, ti mancano tante cose, però sai che se ti impegni è che è il tuo, lo senti, quindi ecco, mettere a tacere la voce perché è sempre sbagliata. Assolutamente, grazie mille, un grande applauso. Allora, se volete abbiamo qualche istante per fare delle domande a Yoko, che ci risponderà. Se volete potete alzare la mano, vi portiamo il microfono e potete fare qualche domanda, se c'è qualcuno che si sente ispirato da questo discorso. Non si attenti, è buia in sala però. Fai tu una domanda, Cri. Che numero porti di scarpe? 39. No, non lo so, ero pronto, una domanda, una domanda, che domanda faresti per se non rubiamo spazio ad altri. Grazie comunque del vostro tempo e buon procedimento. Che domanda vorresti ti facessero? Che domanda vorresti ti facessero? Che domanda vorrei? Questa è la domanda che mi fanno, non viene da me, non picchiarmi. L'ha detta una che detesta le interviste, che chiede, fammi vedere prima le domande perché devo sapere assolutamente che cosa mi chiederai, non posso brancolare nel buio. Quindi la domanda, che numero di scarpe porti, era perfetta perché sapevo perfettamente la risposta. Me l'ho fatta io. Grazie, grazie mille.